Grazie alla vittoriosa sortita da Zara, alla velocissima marcia della divisione motorizzata a partita da Fiume e allo sfondamento del fronte scutarino, tutto il sistema difensivo jugoslavo appoggiato sulle più formidabili rocche dalmatiche è crollato. La capitolazione dei presidi insulari è quindi la diretta conseguenza di questo arditissimo piano. Alcune scene è l'occupazione dell'isola di Cursola, una delle maggiori, lunga 259 chilometri. Le truppe da sbarco comprendono elementi del reggimento San Marco, unità operanti e reparti di camicie nere. Nello stesso giorno altri nostri reparti occupano Solta, Brazza, Lisina, Lissa. In tre giorni le 300 isole dalmatiche sono in nostro definitivo possesso. Nel canale di Segna i serbi hanno affondato prima di fuggire queste piccole navi del servizio costiero e saranno presto rimesse a galla. A Cirque Nizza, che vagamente richiama alla memoria la nostra incantevole abbazia. 12.000 sono gli abitanti di Cirque Nizza, che sorge di fronte all'isola di Veglia, la quale con le sue coste la chiude come in un lago.